Sono Cesare Crosti, residente di Almar Drink & Food, azienda che da oltre 50 anni porta l'innovazione nelle caffetterie e il gusto italiano del mondo grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo. Il nostro obiettivo è quello di offrire alle caffetterie un prodotto innanzitutto buono, che porta innovazione e che aumenti il traffico all'interno dei punti vendita. Facciamo uso di ingredienti naturali di primissima qualità, senza glutine, senza grassi idrogenati, senza OGM. Almar è specializzata nella produzione di cioccolata calda, abbiamo un'ampia gamma di prodotti, oltre 22 gusti. Produciamo poi caffè al ginseng, le creme caffè e tanti prodotti innovativi. Visitate il nostro sito internet dove potete trovare tutte le informazioni sui nostri prodotti. Grazie. 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 Grazie.